Sigle sindacali delle ferrovie in stato di agitazione, in particolare nella regione Marche. Le ragioni della protesta, proclamata da Filt, CGL, Fit Cisle, Will Trasporti, UGL e Fast, sono da ricercare nell'affidamento dei lotti al massimo ribasso, nel cambio continuo delle imprese cui viene affedato il servizio, nella mancata applicazione delle clausole sociali e occupazionali e anche nell'esaurimento degli ammortizzatori sociali. Nelle Marche sono a rischio circa 30 posti di lavoro, in particolare per quanto riguarda la stazione di Ancona. Sono infatti stati affidati i lavori di pulizia dei treni a lunga percorrenza a ditte esterne e questo comporterebbe il taglio del personale interno che si occupava di tale servizio. Il gruppo Ferrovie dello Stato, fanno sapere i sindacati, non ha ancora predisposto alcuna convocazione per discutere di tutti i problemi del settore. Allo stesso tempo il Ministero dei Trasporti fa orecchie da mercante rispetto alla questione degli ammortizzatori sociali.